Ennesimo infortunio mortale sul lavoro a Padova, ieri nel piazzale di una ditta una donna di 61 anni è stata investita e uccisa da un mezzo pesante in movimento. Il giudice ha convalidato l'arresto del 34enne che ha seminato il panico sabato all'ospedale di Cittadella e il ragazzo ha raccontato la sua versione dei fatti. Dopo le parole del prefetto, anche l'assessore alla sicurezza di Padova, Diego Bonavina, torna sulla questione taser per la polizia locale. Famiglia intossicata dal monossido a Cittadella, salvare una donna e i suoi tre figli è il risveglio della figlia maggiore che ha fatto scattare l'allarme. Negli ultimi tempi sono aumentate le truffe negli anziani perché questi carabinieri di Padova insieme ai farmacisti avviano una campagna di sensibilizzazione. A Venezia ha presentato un libro dedicato all'ospice pediatrico di Padova. Nel 2026 sarà pronto il primo lotto della nuova struttura per le cure palliative. All'ospedale di Campo San Piero la pratica dell'abbraccio, pelle a pelle tra i papai e i due gemellini appena nati. Buongiorno, benvenuti al Tg di Tele Nord-Est. Apriamo anche questa edizione con la cronaca. C'è stato l'ennesimo infortunio sul lavoro a Padova e anche stavolta ha avuto un esito mortale. Ci racconta tutto Chiara Gaiani. Buongiorno da Padova. Siamo proprio davanti all'azienda Finesto in via Vigonovese dove ieri sera si è consumato un tragico incidente sul lavoro. La vittima, una donna di 61 anni, camionista Silvia Pallishek, residente a Brogliano nel Vicentino, aveva appena finito di scaricare il suo mezzo pesante. Ci stava risalendo quando proprio nella grande area destinata alla logistica di questa azienda che si occupa proprio di trasferimento di merci è stata investita da un altro mezzo pesante condotto da un uomo di 39 anni di origine romena che vive in provincia di Padova. Per la donna, nonostante i tempestivi soccorsi arrivati prima dai colleghi camionisti, poi dai sanitari del suo, ma non c'è stato nulla da fare. La donna purtroppo è morta sotto shock anche il camionista sul posto. Si è recata la polizia locale che sta conducendo le indagini cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto è accaduto. Capire anche se nell'area destinata alla logistica, come dicevamo appunto, dove è avvenuto il tragico incidente, fossero rispettate tutte le norme previste, se era stata comunicata la presenza di questa camionista, l'incidente è accaduto alle 18.45, quindi buio, vari angoli ciechi, mezzi pesanti. Insomma tutto da stabilire, tutto da definire. I mezzi sono stati sottoposti a sequestro. I sindacati questa mattina hanno riportato con varie azioni di proteste in varie aziende della logistica che si trovano tutte in quest'area della zona industriale di Padova l'attenzione sulla pericolosità e sull'ennesimo incidente, davvero sull'ennesimo tragico incidente che non ha fatto rientrare a casa dalle lavoro una donna di 61 anni. Ringrazio per la collaborazione tecnica Cristian Roche a Iende da Padova. La linea può tornare allo studio. Ovviamente se ci saranno novità riguardo a questa notizia ve le daremo nel corso della nostra informazione. Vi raccontiamo invece della convalida dell'arresto del giovane che ha aggredito in ospedale a Cittadella Sanitaria e Forza dell'Ordine. Si è dimostrato pentito da un lato, dall'altro ora il prossimo passo sarà verificare se si tratta di un soggetto in condizione di capacità di intendere e di volere che quindi effettivamente avesse coscienza e volontà di quello che ha fatto. Ha risposto alle domande del giudice per le indagini preliminari che in carcere lo ha incontrato per l'interrogatorio di garanzia il 34enne di Cittadella che sabato mattina ha seminato il panico in ospedale picchiando un medico e ferendo con un coltello due infermieri e un carabiniere prima di essere bloccato con il taser ha confidato al suo avvocato di aver realizzato la gravità del suo gesto. Il signor Velo oggi ha avuto un atteggiamento sicuramente più consono all'interrogatorio. È emerso ovviamente un vissuto di difficoltà notevole che l'ha portato a compiere questo gesto di cui si è pentito, ha chiesto scusa e ha tenuto a precisare che non aveva nessuna finalità omicidiaria. Si è trattato di un gesto per l'appunto certamente biasimevole però frutto anche di una serie di patologie psichiatriche che costituiranno oggetto di accertamento. Il giudice ha convalidato l'arresto confermando la misura di custodia cautelare in carcere. L'avvocato che lo difende ha chiesto e consigliato una misura alternativa date le condizioni psicologiche del 34enne che era già seguito dal servizio psichiatrico. Da Parmia ho sollecitato come ipotesi alternativa quella di valutare in questo momento una situazione custodiale all'interno di una casa di cura o di un reparto psichiatrico perché il resto dell'idea è che il carcere non sia la soluzione più adeguata per un soggetto che si trova alle prese con patologie quali quelle che affliggono il signor Velo. Da questa vicenda arrivano però anche altre notizie, sentite. Migliorano le condizioni del brigadiere dei Carabinieri intervenuto con un collega nel pronto soccorso di Cittadella tenuto sotto scacco da un uomo armato di coltello che dopo aver aggredito che gli capitava a tiro è ora in carcere con l'accusa di tentato omicidio. Il brigadiere ferito che era stato ricoverato è stato dimesso ieri dall'ospedale in buone condizioni generali ha avuto qualche punto di sottura, qualche giorno di convalescenza ma si rimetterà a breve. I due carabinieri hanno poi avuto la meglio sull'aggressore utilizzando il taser, la pistola elettrica in dotazione alle forze dell'ordine arrestandolo e riportando la calma in ospedale. Quello stesso ospedale è teatro anche di un'altra bella notizia. Bellissima notizia perché il maresciallo che era intervenuto insieme al vice brigadiere nell'immediatezza del fatto e che ha arrestato questa persona è diventato papà di un bellissimo bambino Alessandro e tra l'altro proprio in quei momenti concitati la moglie era in ospedale in fase di travaglio. Mentre i carabinieri erano impegnati al pronto soccorso di Cittadella per l'episodio di violenza, infatti poche ore dopo la moglie del maresciallo Daniello, ricoverata proprio nello stesso ospedale, ha dato alla luce il figlio primogenito della coppia. Rapina ieri mattina all'ufficio postale di via Vigonovese a Camin dove un uomo volto coperto con una pistola in pugno, forse un giocattolo, ha minacciato la cassiera e si è fatto consegnare il denaro circa 800 euro. La rapina è venuta sotto gli occhi di alcuni clienti spaventati, le indagini sono state affidate alla squadra mobile. A proposito di episodi di cronaca e criminalità si torna a parlare di taser alla polizia locale di Padova. Come ribadito dal prefetto di Padova Giuseppe Forlezza, la competenza sulla decisione di munire gli agenti di polizia locale di taser è del Consiglio Comunale. La richiesta era partita da una quarantina di agenti che tramite i rappresentanti sindacali avevano chiesto la dotazione della pistola elettronica. Le parole del prefetto riportano al centro il Consiglio Comunale nella decisione. Ha ragione perfettamente, ricordo perfettamente di aver chiuso il mio intervento in Consiglio Comunale ribadendo che la decisione finale verrà presa dal Consiglio Comunale e questa è assolutamente la verità. Io lo porterò questo argomento perché è un argomento che mi è stato chiesto da 40 agenti della Polizia Giudiziaria quindi è giusto che l'amministrazione comunale tutta quanta assieme decida se è un argomento da prendere in considerazione o meno. La strada la si capirà. Poi, ripeto, il Consiglio Comunale è sovrano da questo punto di vista e quindi deciderà in assoluta democrazia come sempre. Giornata di tensione, quella di ieri in un cantiere del centro di Padova. Troppe rai sono salite per protesta su una gru per chiedere il pagamento degli stipendi. La situazione purtroppo è esplosa questa mattina però diciamo che era da un po' di tempo che fermentava perché i lavoratori rivendicano delle mancate retribuzioni. Uno dei nostri capicantiere ha visto persone scavalcare e prendere possesso di fare casino. Cronoca di una giornata di tensione in un cantiere edile di via Santa Eufemia a pieno centro di Padova dove tre operai sono saliti per protesta su una gru rimanendoci per alcune ore in mezzo all'intervento di polizia e vigili del fuoco. Da un lato alcuni lavoratori, tutti stranieri, egiziani, subsahariani, marocchini. Dall'altro le ditte, una principale, le altre in subappalto. I lavoratori vivono la loro vita lavorativa e la loro vita extra lavorativa in condizioni che non sono dignitose. Inoltre lamentano la mancanza di un buono pasto per pranzo o cena, di vivere in casette di cantiere piccole senza servizi idonei, di dover discutere ogni mese per lo stipendio. È da una settimana che sono stati sospesi dalle attività lavorative e non sappiamo per che motivo e questa mattina stanchi ed esasperati hanno deciso di salire, come vedete, sulla gru tra di loro. La GVG ha autorizzato durante la protesta un bonifico a favore degli operai per convincerli a scendere e l'azienda si dice preoccupata per la tensione. Noi del GVG siamo bravi persone. Cerchiamo di mantenere un rapporto civile e da bravi persone con tutti. Quello che subiamo qua da una settimana e come ci siamo sentiti noi oggi siamo stati messi all'angolo con modalità che incutono timore nelle brave persone e nella brava gente. Poi abbiamo chiamato la polizia, sono arrivati i sindacati, ci siamo messi a cercare di risolvere tutti insieme la situazione. Non possiamo avere paura di camminare dentro il cantiere. Intanto arriva un mediatore culturale per trattare con gli operai. Si punta a un accordo sindacale con l'azienda per regolarizzare la situazione. Dalle carte non risultano problemi di pagamenti, sostiene l'azienda, che chiede di gestire senza tensioni. Quanto alle casette, sono fuori dalla zona del piano di sicurezza e scelte dagli operai per comodità. Le casette sono, secondo me, degli alloggi nuovi, che io sappia quanto mi risulta, comprati nuovi, quindi non container usati, non sono container ma sono unità abitative che peraltro vengono usate come appoggio. Poi, finalmente, gli operai scendono e parte la trattativa per un accordo sindacale definitivo. Famiglia intossicata dal monossido a Cittadella a salvare tutta la situazione, la figlia maggiore che si sveglia e fa scattare l'allarme. È stata già dimessa dai sanitari dell'ospedale di Cittadella la famiglia, residente in Borgo Treviso, che nella notte, tra lunedì e martedì, è rimasta vittima di una grave intossicazione da monossido di carbonio, un killer silenzioso che ti assopisce senza talvolta lasciare scampo. Providenziale il risveglio notturno della maggiore dei tre figli di una donna di 42 anni che, non sentendosi bene, ha chiamato il 118. Immediato l'intervento dell'ambulanza, entrati nell'abitazione, i sanitari hanno capito che la casa era satura di gas e ha avvisato i vigili del fuoco. Dopo le cure del caso, la famiglia ha potuto far ritorno a casa. Si cercano adesso le cause che potrebbero essere legate al malfunzionamento di una caldaia. Attimi di paura, ieri pomeriggio per il comandante della polizia locale di Vigo d'Arza era investito da un'auto mentre era in servizio. Marino Bruseghini, 62 anni, è ricoverato adesso all'ospedale di Padova per alcune contusioni, ma fortunatamente non è in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto poco dopo le 17.30 in via Roma, vicino al municipio. Il comandante era uscito dal suo ufficio per raggiungere la strada dove un autobus di Busitalia si era fermato a casa di un guasto quando è stato investito da un'auto guidata da un'anziana che era appena stato impatronato a giocare a Tombola. E ora vediamo un'azione condivisa fra carabinieri e farmacisti per combattere le truffe agli anziani. Fanno leva sugli affetti più cari come figli o nipoti, raccontano loro di incidenti inesistenti o problemi giudiziari, si spacciano addirittura per membri delle forze dell'ordine. I truffatori che mettono in atto i raggiri alle persone anziane sono senza scrupoli perché approfittano di situazioni di fragilità o di solitudine. Purtroppo il fenomeno è in aumento. Nei primi nove mesi di quest'anno, infatti rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, i carabinieri di Padova hanno registrato un incremento di circa il 30% dei reati, da 125 a 163. A questo corrisponde un aumento di denunce, di arresti, 35, i truffatori finiti in manette. L'Arma dei Carabinieri ha deciso così di avviare una campagna di sensibilizzazione coinvolgendo le farmacie padovane, un luogo spesso frequentato dagli anziani. Le farmacie per noi sono dei presidi importanti perché sono capillari, sono presenti anche nei piccoli centri, sono degli importanti presidi di riferimento per i cittadini che soddisfano non soltanto le esigenze sanitarie ma anche conquistano la fiducia dei cittadini in un rapporto di dialogo e di conoscenza. Quindi approfittando di questa fiducia, di questa conoscenza, di questo rapporto che si crea con i cittadini gli abbiamo chiesto di ridiffondere il materiale illustrativo che è stato redatto dal comando generale quindi delle brochure che spiegano quali sono le tecniche utilizzate dai truffatori. I farmacisti sono visti quasi come una valvola di sfogo per gli anziani che chiedono consigli e confidano le disavventure. In questi giorni mentre avevo il volantino, una signora mi ha raccontato che anche lei ha ricevuto una telefonata che gli è sembrata, questa signora era abbastanza furbina per cui è riuscita a rendersi conto che la telefonata era un po' strana e è subito avvisato il 112. I farmacisti distribuiranno volantini con indicazioni antitruffa e saranno così le prime sentinelle sul territorio. In arrivo novità sull'ospice pediatrico di Padova. Tutto l'equip dell'ospice pediatrico perché hai fatto tanti cose per Adam è la seconda casa di Adam, l'ospice pediatrico. L'ospice pediatrico è stato per Adam una casa. Adam era un bambino farfalla, un nome dolce che evoca leggerezza per una malattia che non lascia scampo e che ha ucciso Adam, nato nel 2009, a soli 14 anni. La sua storia è diventata il titolo e lo spunto per un libro scritto dal giornalista Stefano Vietina ed edito da Marsiglio Editori che racconta il lavoro immenso che fanno i medici e il personale sanitario dell'ospice pediatrico di Padova e del Veneto che accoglie ogni anno centinaia di bambini e ragazzi affetti da malattie inguaribili ma curabili. Come ha spiegato Giuseppe Zaccaria, presidente della Fondazione La Miglior Vita Possibile che a Palazzo Balbia, Venezia, ha fatto un annuncio importante. Entro il 2026 infatti sarà completato il primo lotto del nuovo ospice pediatrico. Cominciamo a intravedere l'addirittura d'arrivo per la realizzazione del primo di questi tre grandi pilastri che poi è quello più importante e fondamentale. Quello cioè relativo all'assistenza con la realizzazione della ristrutturazione di un edificio in via Falloppio 17 a Padova per il quale ci saranno maggiori spazi, maggiore disponibilità per i medici, per i ragazzi, per le famiglie e quindi possibilità di offrire un'assistenza sempre più ampia, sempre più qualificata. L'associazione La Miglior Vita Possibile nei prossimi dieci giorni consegnerà il progetto definitivo della struttura per le cure palliative all'azienda ospedaliera di Padova. Il nuovo ospice costerà 16 milioni di euro, 9 milioni saranno finanziati dalla regione, ha ricordato il presidente del Veneto Luca Zaia. Ci saranno 12 stanze per ospitare i piccoli pazienti e appartamenti per i familiari che arrivano da lontano e che verranno accolti con amore e cura, come è stato per Adam e la sua famiglia. Cambiamo decisamente argomento, una segnalazione che ci arriva dal centro storico di Padova. Trovarsi a pagare le conseguenze di una sporcizia e di un degrado non suo, ma provocato dal totale abbandono del negozio accanto alla sua attività, è quello che accade quotidianamente a Michele Freo, titolare di una storica pannetteria di Via Zabarella, in pieno centro storico a Padova. I locali dell'ex pescheria accanto al suo negozio sono sfitti e abbandonati dal 2018, quando è stata chiusa e il proprietario non si è più occupato della polizia. Il risultato è lampante, vetrate scure per lo spesso strato di polvere, guano e piume di piccione, mozziconi e cartoni, ma soprattutto da qualche tempo sono comparsi anche i topi. Noi panificatori lavoriamo alla mattina presto, quindi le vie sono molto tranquille e abitate, ahimè, da piccoli animali un po' spiacevoli. Al mio arrivo fuggono all'interno del locale adiacente, nei buchi che si presentano davanti al locale e si nascondono lì. Attirati dal profumo del pane fresco, al mattino i roditori escono anche da questo foro nel pavimento del portico, antistante i due negozi. Anche i residenti della via sono arrabbiati per questa sporcizia e attraverso Michele Freo chiedono al proprietario dell'ex pescheria di pulire il negozio ed eseguire una deratizzazione. Noi richiediamo innanzitutto che venga pulita la parte di fronte al locale, prima di tutto, soprattutto perché questa è una via che è percorsa da turisti, essendo una via molto storica che collega i giardini alla Basilica del Santo, spesso loro evitano di passare sotto il portico per vedere la sporcizia e fanno il giro largo e quindi evitando anche la mia vetrina e vedere i miei prodotti. Nella vicenda si è interessata anche Vanda Pelizzari, ex consigliera comunale e portavoce di ACC, l'associazione dei commercianti del centro, che cita il regolamento di polizia urbana. Non solo chi ha la proprietà e il lavoro e l'attività che funziona deve fare questo, ma anche coloro che hanno chiuso i negozi, che quindi il negozio è sfitto, tanto chiudere le vetrine, non come qua, ma ben con i cartoni, in modo che non ci sia la visibilità dell'interno. E poi deve pulire lo stesso, come fanno gli altri, lo spazio antistante, la loro attività, anche se è chiusa. Pena, c'è la pena pecuniare. Presentati in municipio i nuovi mezzi e i nuovi cani della squadra cinofila della Polizia Locale. Ecco i nuovi mezzi in dotazione alla Polizia Locale di Padova, attrezzati per i servizi sul territorio, con l'impiego delle unità cinofile antidroga. Il comando di Padova ha aderito ad un bando del Ministero dell'Interno, che ha visto assegnati a Palazzo Moroni 200.000 euro, che hanno consentito l'acquisto e l'allestimento tecnico dei due veicoli. Qui avete furgoni che sono coinventati, quindi furgoni dove il cane può stare tranquillo sia d'estate che d'inverno, riscaldati o refrigerati, gabbie con altezza a normativa per quanto riguarda i pastori tedeschi, grigione che devono avere sempre una posizione eretta e non abbassata, come per esempio per i cani da caccia. In più, tutta una serie di caratteristiche che lo rendono idoneo al lavoro per lunghe ore sulle nostre strade da parte di questi amici che vanno tutelati fondamentalmente. Attualmente a Padova ci sono cinque cani in servizio con i loro conduttori, con impiego prevalente nell'area della stazione ferroviaria fino a Piazza Alcide De Gasperi, Via Tommaseo e zone limitrofe, nonché nella zona della Primarcella. Tra loro anche Nevada e la sua conduttrice Diana Cassandro. Adesso con lei ho raggiunto un livello, devo dire, veramente alto di qualità anche nel lavoro. È molto brava, stiamo ancora facendo il corso comunque di addestramento, finirà a dicembre, ma ha già iniziato a lavorare molto bene nel territorio. E con ottimi risultati. Vediamo ora delle immagini che ci arrivano dall'ospedale di Campo San Piero, dove i due gemellini nati nelle scorse ore hanno potuto vivere un'esperienza con il papà. Lo sguardo sognante grato del miracolo della vita di papà Alberto, gli occhietti che scrutano la luce e l'aria per la prima volta di Tommaso ed Edoardo, sono foto che profumano dell'eterno amore tra un genitore e i suoi figli, quelle scattate nel punto nascita dell'ospedale di Campo San Piero, dove, grazie alle cure delle ostetriche, questo papà ha potuto vivere pelle a pelle con i suoi gemellini appena nati. Molte le donne che già provano questa emozione, la procedura pelle a pelle, skin to skin, vissuta a pieno anche dai papà nei primi attimi di vita, aiuta i neonati dopo gli istanti talvolta stressanti della nascita a sentirsi accolti, protetti, abbracciati. Il primo ad arrivare è stato Tommaso, subito dopo ecco Edoardo, ammirati da papà alla testolina coperta da caldi berrettini. E allora benvenuti piccolini, la vita vi conservi tutta la protezione e il calore di questo meraviglioso abbraccio. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi ringraziamo per essere stati con noi, vi auguriamo un buon pomeriggio.